Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta per rega del cammino, perché possiamo ottenere il vero successo con i tuoi eventi, con la rea di Maria Eterna, generata con Dio, il tuo Pier, il tuo Verde, i tuoi Sambi Apostoli, i tuoi Sambi Apostoli, i tuoi Sambi Apostoli e tutti i Sambi, i nostri intercessori presso a Dio e i tuoi Pagliari, Cristo Sanctitolo della Prostazione di Concelegazione, doni pace e salvezza a Dio e Dio, conferma nella fede e nell'amore la tua chiesa benedirina su la terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro resto più sempre, l'ordine discotale, il trasmittere e il diagno, e il popolo che tu la chiede. Grazie.